Allora, sette e mezzo. Mangia, Rerri, mangia. No, stanzione, no. Non ce non ti mangiare. Non so mangiare gli spaghetti. Guardate. No, riprendi lo zoom. Com'è un pochetto, bene i spaghetti. Sì, puliti, bene, bene. A capirci, credi. Di quanti nesti ci siamo presi? Due nesti. Uno per uno, non fa male. Non c'erano motivo. Due nesti e tutti e due abbiamo bevuto. Due cannunce, proprio sembravamo una coppia. Perché mica ne prendiamo uno tutti e due insieme. No, ne prendiamo fino a uno. Poi ci finiamo uno. E poi di che mangi? Fingevo perché sono brava a mangiare i spaghetti. Volevo far riprendere. Però devo dire che la pizza la fanno buona. Non solo la pizza. Mi inquadro, sto qua. Devo dire che la pizza la fanno buona. Ah beh, pensavo che volessi riprendere dietro. No, non inquadravo, non inquadravo. Eccola. Dovresti riprenderti. Dovresti riprenderti quando tu stai a fare i piatti. Quindi prendi pure lui dallo specchio. Tu sei pazza, lo sai? Sì, però non vuoi dire troppa data con lui. Con questi spaghetti così. Ho visto lo spaghetti? Ma è una persona seria. Ho visto così, eh. Io sono una persona seria. O no? Certo. Sono una persona seria. Oddio, me l'hai detto solo tu adesso. Però... In tutta la tua vita? In tutta la mia vita l'hai detto solo tu. Però io penso comunque di essere una persona seria. Oh, le boccone. Lezione rossa. Ma intendi riprendermi tutto il tempo fino a che non riesco a finire? Quindi per tre quarti d'ora. Non finisco tutta la mia vita. Il video più lungo di Youtube. Ho le stelline, cinque. Cinque. Fai un canale solo mio. Rerri Youtube. E' fatto vodè. Non c'ho tempo. Devo andare in pizzeria. Non c'ho... Non c'ho tempo. Che... dovete sapere. Da arriva sto coso. I suoi capelli di Sam. Com'erano? I capelli? Se cade in capello di Sam ci vuole tutta... Tutta via del colso per prendere tutto. Per col tutto lungo. Ecco il mio capello. Ehm... 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 Che te sta guardando? Faccio finta. No, stavo guardando un bracciale. Ah, un bracciale? Ah, che c'era scritto? Sì. Ehm... 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 Sì, ma il grande fratello non riprende tutto il piatto di pasta. Cioè nel senso che ci vuole un bel po' per finire il piatto di pasta. Io ti ho detto via la pizza. Io gli ho detto via la pizza. Ehm... Sono sexy già le caglie su una pasta. Quello sexy. Qui devonocomungere la pasta. Vuoi prendere pure le mie gambe con i pantacollami? No. che buco Quello è bucato... Quello è sexy... Vabbè Che cos'era sta cosa? Anzi così Non ci fa Non ci fa Oh, sta pasta, mangia Quella che hai sette ciampegni Trampà, finisci Imboccami Figlia mia, ti imbocco Ecco la mano di gente No, no, non morire Dai, è mercolino Aspetta che metto tutta la forchettata Anche allora ci stiamo tre quarti d'ora Vai Che cosa fa? No, 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 in serio Che faccio, sì o no? No Vabbè Quando ci ripensi dimmelo Quando non guardano Quando non guardano È un po' difficile perché Mentre si gira un video è un po' difficile È un po' difficile invoccare una povera ragazza Che non gli vanno gli spaghetti E può pentire tutto il piatto Ma per chi prendono i bruttana e c'è la pizza in pezzeria? Posso non andare a prender gelato, è meglio Quindi, ma a te sembra il luogo adatto E' divertire, pensuato Certo che no Che fai? Che volevi? No, era certo che no Era certo che no, così Vabbè Saluto al grande pubblico Vicendo del Policino Tu hai visto? Vicendo del Policino No, è vera